E qua dentro si trova la fanciulla da salvare, la nostra cara Amelia E questo è il posto segreto di Mr. Meat, il suo famoso laboratorio segreto Salutiamo la figlia di Mr. Meat, ciao Rebecchina Carissimi amici, sono PaninoTube, oggi siamo qua con un video molto molto particolare In tanti vi avete chiesto ultimamente, ma Panino, Mr. Meat 2, ci sarà? Non ci sarà? In questo video andremo a parlare appunto di che cosa potrebbe accadere nel prossimo capitolo del macellaio Ma mi raccomando, prima di cominciare, lasciate qui sotto tanti bel like, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per ricevere ogni giorno una notifica Sì, ogni giorno, perché su questo canale ogni giorno uscirà sempre un nuovo video Adesso partiamo subito, tocchiamo gioca Allora, c'è da dire una cosa, una piccola premessa Mr. Meat 2 non è stato annunciato e non si sa se ci sarà Però l'ultimo finale che abbiamo visto, quello segreto Ha fatto presagire comunque che la storia non finisce Non è finita ancora la storia del macellaio Quindi comunque è palese che io voglio un Mr. Meat 2 La storia non è finita, continua ancora Ma andiamo con calma, andiamo con ordine Allora, Mr. Meat, che gioco è? Mr. Meat è questo, noi ci troviamo qua Davanti alla casa di questo macellaio E dobbiamo salvare una fanciulla che si chiama Amelia E questa è qui la missione principale del gioco Apriamo quella porta, perfetto Apriamo qua, sempre sempre di qua, perfetto Apri qua, macellaio, ciao Stiamo giocando in modalità fantasma così il macellaio non ci può vedere Ma soprattutto così posso parlarvi in tranquillità Altrimenti sarebbe veramente difficile fare una spiegazione di un video Con il macellaio che mi rincorre Prendiamo subito qua la chiave verde Come prima cosa andiamo dove c'è il bunker del macellaio Apriamo qua la porta, ok Adesso dobbiamo trovare le tongs e le cutting pliers Veloci, veloci Comunque lo scopo principale di questo gioco è quello di salvare una fagiola che si chiama Amelia Infatti noi siamo qua un detective, il personaggio è un detective Che ha lo scopo di salvare questa Amelia che è misteriosamente sparita Che fine avrà fatto? E noi lo sappiamo bene dove si trova È diventata prigioniera del macellaio Prigioniera di Mr. Meat Ok, tagliamo qua i fili elettrici Andiamo dall'altro lato, così tagliamo anche di là Dopodiché andiamo a cercare le tongs Veloci, veloci, veloci Ok Comunque questo qui è soltanto una delle tre fughe che c'è nel gioco Perché qua possiamo fuggire Possiamo vincere all'interno del gioco con No, aspettate, mi stavo sbagliando Qua devo tagliare i fili Dicevo, possiamo fuggire con O salvando Amelia O arrestando il macellaio O salvando la figlia del macellaio Ma con calma, andiamo prima qua ad Amelia Cerchiamo di aprire la porta del bunker Quindi devo trovare le tongs che si trovano Non sono di qua Vediamo qua se stanno qua dentro Qua Ok, trovate, trovate le tongs Che qua si chiamano pins Però a me piace usare il nome originale Sì, perché all'inizio queste pinze si chiamavano tongs Ok, apriamo qua Uno, due, tre E quattro Perfetto, sali qua sul tetto Ora saltiamo Vabbè, in realtà non c'era neanche bisogno di andare qua sul capannone Tanto comunque lo shotgun non ci può servire in questo momento Non ci serve Vabbè, aprite qua Perfetto, ce ne andiamo da questo lato E cerchiamo di aprire la porta del bunker Ciao macellaio Come stai macellaio caro? Tutto bene Tutto, tutto bene Andiamo da questo lato Allì c'è pure il maialino di Mr. Meat Che... Ok No, è così A prima vista Sapendo soltanto che dobbiamo salvare Amelia Non sappiamo le origini di quel maiale Può sembrare all'inizio un maiale normale No, un comune maiale che si trovava da quelle parti Addestrato però a prendere gli introsi Un maiale da guardia del macellaio Ma poi più avanti scopriamo che il mistero si infettisce Ma si infettisce di tanto Togli qua Togli questo chiodo Togli quest'altro chiodo E quest'altro ancora Apriamo la porta Ok Siamo arrivati nel bunker del macellaio Nel bunker di Mr. Meat E qua dentro si trova la fanciulla da salvare La nostra cara Amelia Mamma mia quante volte avrò salvato questa Amelia Mamma mia con tutte le volte che l'ho salvata Come minimo mi deve portare a cena Cioè come minimo deve accettare il mio invito a cena Perché io me la voglio portare a cena questa Amelia Vabbè È un personaggio del gioco Però con tutte le volte che l'ho salvata Mamma mia questa qua è sempre che si fa rinchiudere tutte le volte dal macellaio Vabbè ciao Amelia Sono qua fuori Ti saluto qua dalla finestra della porta Mamma mia Mi sono girato Mi sono trovato qua dietro il macellaio Macellaio caro Sei voluto a mangiare un po' di carne con me Buon appetito macellaio Buon appetito Comunque adesso prendiamo qua Perché Se noi andiamo a fondo qua con il gioco Scopriamo che Il macellaio nasconde delle cose molto importanti Lui ha un laboratorio segreto Si trova dietro questa porta Cosa ci sarà mai lì dietro Che laboratorio nasconde il macellaio Ma soprattutto perché Amelia è tenuta rinchiusa lì dentro Tra l'altro come possiamo vedere Lei è in abito da lavoro No ha il camice da lavoro Quindi di persa È come se fosse una scienziata di Mr. Meat Ma forse lei ha scoperto qualcosa di strano Ha scoperto qualche segreto del macellaio Guardiamo pure qua questa immagine No Mr. Meat Qua cosa dice Se cerchi il posto migliore per mangiare Vieni qua a mangiare la carne speciale di Mr. Meat Però guardate anche qua dalle immagini No qua vediamo un piatto con della carne Ma dietro Dietro guardate Lì ci sono i cilindri del laboratorio Quei cilindri dove vengono sviluppati i maiali Anzi più precisamente dove le persone diventano dei maiali Adesso però andiamo dentro il laboratorio Perché la seconda fuga che c'è all'interno di questo gioco sarà l'arresto Noi possiamo decidere no? Di vincere all'interno del gioco Facendo arrestare il macellaio Quindi andiamo di qua Apriamo questa porta Però per far arrestare il macellaio Noi dobbiamo scattare delle fotografie Che stanno lì nel laboratorio Prendi qua Ok Dove è finito? Ok fiamma ossidrica Raccogli raccogli Perfetto Andiamo nel laboratorio del macellaio Andiamo qua dentro Veloci veloci Macellaio non ti mettere davanti Fammi andare Si era pezzato davanti il macellaio Non mi faceva andare No mi faceva muovere Ah 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 Velocemente andiamo qua sotto E cerchiamo di aprire il laboratorio segreto di Mr. Meat Ok Apri qua Perfetto E ora qua suonerà un allarme Che veramente Mamma mia macellaio Ma era necessario mettere un allarme così forte Cioè guardate Mi sto stonando le orecchie Con sto suono forte Vabbè proseguiamo qua dentro Proseguiamo Apriamo quella porta E questo è il posto segreto di Mr. Meat Il suo famoso laboratorio segreto Dove possiamo scorgere una cosa molto importante Molto molto importante Qui dentro Mr. Meat Trasforma le persone Il maiale Come fa? Prima li porta dentro sta pozione rossa No? Li fa girare lì dentro come se fosse un minestrone Infatti abbiamo visto pure in un filmato del game over Dopodiché No qui sento Che ho sentito dei rumori Vabbè comunque Gira le persone con questo minestrone Dopodiché Li porta dentro uno di questi cilindri Inoltre Sempre nel finale Quello dove Mr. Meat ci chiude qua dentro Per trasformarci in maiale Il macellaio Canticchia la stessa Ninna nanna della suora Quella che però canta su Evil Nan 1 E' proprio la stessa Ninna nanna Lo stesso motivetto Questa mi fa pensare molte cose no? Collega sempre di più il gioco di Mr. Meat Con Evil Nan Anche se non abbiamo ancora un collegamento ufficiale Però come mai il macellaio Conosce la Ninna nanna della suora? Come mai? Proprio lo stesso motivetto Boh non lo so Comunque qua ci sono i maialini E una volta arrivati qua Tecnicamente noi dobbiamo arrivare Con la macchina fotografica Chiamare la polizia Far arrestare il macellaio Cioè sentite qua Sento dei rumori qua Vabbè non importa Inizio a sentire i rumori a caso E intanto viene il macellaio Lui continua qua a girare Continua qua a vedere il suo laboratorio Se è tutto a posto Se è tutto in ordine Controlla le sue creature Come stanno Come stanno finendo No mi sa che si è fermato di là Vabbè io me ne vado Me ne vado via E ora c'è la cosa più importante Come ben sappiamo L'ultimo aggiornamento di Mr. Meat Ha introdotto una cosa molto molto importante Ha introdotto la terza fuga segreta Ossia quello di salvare Rebecca Ha introdotto quindi un nuovo personaggio La figlia di Mr. Meat Rebecca è la figlia di Mr. Meat Che praticamente lei è sempre alla continua ricerca della madre Comunque cosa è successo di per sé In questo nuovo aggiornamento Il nuovo segreto che hanno aggiunto La moglie di Mr. Meat Se n'è andata via Da diversi giorni E Rebecca non sa che fine ha fatto Quindi cerca di intrufolarsi nel laboratorio Ma il macelloio la chiappa subito La rinchiude e la trasforma in un modo molto particolare La trasforma in una maialina Come abbiamo visto qua Come abbiamo visto già nei video scorsi Adesso andiamo direttamente a salutare la nostra cara Rebecca Andiamo di qua veloci veloci Perfetto E nella terza fuga cosa dobbiamo fare Dobbiamo riportare Rebecca nel suo stato normale Dopodiché possiamo scapparcele via Via da questo posto E se noi abbiamo letto le quattro noti del diario di Rebecca Sblocchiamo pure un finale segreto Dove Mr. Meat se ne esce fuori Alla ricerca Ci rincorrerà per tutto il tempo Mamma mia Chissà se puoi riuscire a trovarci Chissà Andiamo qui dentro Salutiamo la figlia di Mr. Meat Ciao Rebecchina Ciao come stai Non aver paura Sono sempre io Non è che cambio forma Sono sempre io Ti ho già salvato più di una volta E te puntualmente ti fai ritrasformare Così in quel modo Ma 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 dai Rebecca Ma dai pure te che ti fai trasformare così Vabbè comunque insomma In questo terzo finale Come vi ho detto prima Facciamo tornare Rebecca nel suo stato normale Dopodiché quando noi ce ne scappiamo via Mr. Metterci fuori col camion Alla ricerca Quindi direi di fare una cosa Liberiamo un attimo Rebecca qua Cerchiamo gli oggetti che ci servono Ok Asse di legno Perfetto Saliamo di sopra Veloci veloci No non saliamo di sopra Niente Niente Non possiamo salire di sopra Però possiamo fare così no Facciamo rumore di sotto Così verrà il macellaio di qua Sperando che venga presto Che non si trovi chissà Da quale altra parte del mondo Altrimenti qua l'anno prossimo Potrò uscire Mr. Metter Vieni qua Vieni qua che ti sto aspettando Su Dai E allora Oh sta arrivando Oh sta arrivando Finalmente Sta arrivando Ciao macellaio Su puoi uscire Puoi scendere E che devi stare lì Impalato a guardare Mamma mia Mamma mia Metti qua dentro Veloce veloce Ok Abbiamo creato qua Una bella carru Ma dai Mr. Metter E basta Fammi muovere Fammi passare So Non ti piazzare davanti E allora Questa possiamo montarla Non ancora perché dobbiamo inserire la corda Ok Prende qua La chiave del cassetto di Mr. Metter Perfetto Saremo di sopra E andiamo a cercare subito la corda Che serve appunto per Montare tutto quanto il sistema In modo da poter alzare la gabbia E liberare Rebecca da lì dentro Apri qua la porta La serratura volevo dire Prendiamo qua la cordicina Scendiamo sotto E ora andiamo velocemente a montarla Su Mr. Metter Spostati pure Togliti E sempre davanti ti trovi Sempre davanti ti fai trovare Metti qua Su Metti qua la fune Uno Prendi qua la carrucola Monta di qua Perfetto E ora apriamo qua la porta L'interruttore Vai Abbiamo appena liberato Rebecca Ma l'abbiamo soltanto liberata dalla gabbia Tecnicamente Dovremmo poi creare una pozione segreta Insieme allo scienziato Affinché lei possa tornare normale Sì Che bello Comunque C'è da dire una cosa Di per sé Già con sto terzo finale Si può vedere come una sorta di Mr. Met 2 E adesso vi spiego il motivo Vi spiego tutto quanto Noi comunque Siamo venuti qua Principalmente per salvare Amelia Cioè noi siamo qua per salvare Amelia Non per salvare altre persone Non per arrestare Mr. Met Cioè l'interesse personale del personaggio è quello Prendere la fanciulla Salvarla E portarla via Amelia comunque è la fanciulla Quella che è rinchiusa Ne sotterranea E non parlo di Rebecca Questa qua Quindi si può vedere da questo punto di vista Nella prima missione Noi veniamo qua dentro A salvare Amelia Ma nel frattempo Il personaggio cosa ha fatto Ha pure trovato le note del diario Le note del diario di Rebecca Quindi cosa succede Una volta che noi abbiamo salvato Amelia Il personaggio ritorna E torna per salvare Rebecca E questo è già come se fosse una sorta di Mr. Met 2 Il ritorno nella casa del macellaio Per salvare la figlia del macellaio Anche perché non è per dire No non è per dire Ma noi una volta che abbiamo salvato quella figlia del macellaio Una volta che abbiamo salvato Rebecca no Amelia Che fine fa C'è rimasta lì dentro nella cella E chi è che viene a salvarla Poi che rimane là dentro Cosa fa Pure Mr. Met 2 se ne va via Quindi lei rimane abbandonata lì dentro no Dunque Questo significa che noi siamo tornati una seconda volta Per salvare Rebecca Quindi Amelia è stata già salvata prima Nella missione precedente Ma cosa succede dopo Cosa succede Che Mr. Met 2 se ne esce fuori Alla ricerca Mentre Rebecca andrà alla ricerca di sua madre Quindi se dovesse esserci un nuovo capitolo del macellaio Molto probabilmente sarà concentrato su questo Su Rebecca che cerca sua madre Chissà dove la va a cercare Con Mr. Met 2 che le dà la caccia Oppure Mr. Met 2 dà la caccia direttamente a noi come personaggio Non alla sua figlia E questo può aprire tantissimi scenari del gioco Ma davvero tanti Ma secondo me sarebbe molto più interessante Se nel prossimo capitolo di Mr. Met 2 Sempre se ci sarà Approfondire la ricerca di Rebecca con sua madre Magari sua madre nasconde qualche segreto Molto più interessante del macellaio Sicuramente nasconde qualche segreto Che noi ancora non sappiamo Con Mr. Met che le dà la caccia E in tal caso Sapete chi sarà il personaggio Potrebbe essere Rebecca stessa Rebecca stessa potrebbe essere il personaggio Di questo nuovo capitolo Sarebbe molto bello se lo facessero Io veramente spero che facciano un Mr. Met 2 Perché non è per dire ma Questo nuovo finale che hanno messo Questo ultimo finale che hanno aggiunto Ha aperto notevolmente la pista Per una nuova trama Per qualcosa di grande Su cui svilupparci davvero tanto È un peccato se abbandonassero la storia di Mr. Met Questo gioco ha un grande potenziale Mr. Met è stato tra l'altro Uno dei personaggi degli horror mobile Più importante Quindi secondo me Avere un seguito di questo personaggio Avrebbe un gran successo Quindi Speriamo che faranno un Mr. Met 2 Speriamo veramente tanto Oppure la terza opzione Sarebbe quella di fare un Mr. Met ambientato negli anni passati Non un po' come hanno fatto sui Volna 2 Magari quel momento dove Mr. Met è diventato una persona Un macellaio come l'abbiamo visto ora E magari è successo qualcosa Un incontro con qualcuno Magari chissà L'incontro con la sua retta di Volna Non lo so Comunque Speriamo comunque che faranno un seguito di questo gioco Perché comunque Mr. Met è uno dei miei giochi horror mobile preferiti E a me dispiacerebbe vederlo così abbandonato Senza alcuna novità Senza nessun aggiornamento E senza nessun mistero approfondito Quindi per il momento direi di fermarci qua con il video Fatemi sapere cosa ne pensate Fatemi sapere le vostre opinioni Come vorreste vedere voi un Mr. Met 2 Come vi piacerebbe vederlo Spero che questo video vi sia piaciuto Se vi è piaciuto mi raccomando Spalliciate Quindi vi dite Iscrivetevi al canale con la campanella attiva Noi ci vediamo in un prossimo video E come sempre vi auguro una buona giornata Buona serata E una buona notte Ciao a tutti E buon panino a tutti Ci vediamo in un prossimo video Grazie per la visione!